La Lega prende le distanze dalla posizione di alcune liste civiche e formazioni politiche di maggioranza che continuano a chiedere di riaprire il dialogo con Marche Multiservizi. La Lega, come spiegato in una nota, osserva preoccupata la recente interrogazione di azione più Europa e di noi città rivolta direttamente ai manager di Aset e al sindaco Seri con l'intento di forzare la mano sulla sostenibilità finanziaria e industriale della municipalizzata nei prossimi anni nel tentativo di guardare favorevolmente ad una fusione. Quello che contestiamo, ha dichiarato il commissario del partito Luigi Scopelliti, è la possibile collaborazione con Marche Multiservizi sia per la costruzione di un biodigestore nella provincia pesarese sia per le prossime gare in programma per l'assegnazione dell'idrico e del gas. Questa richiesta di collaborazione non tiene conto del fatto che in Consiglio Comunale è stata approvata ad unanimità una mozione che prevede l'interesse ad alcune società di collaborare con Aset e Multiservizi, per il digestore e quindi siamo arrivati a un punto cruciale. Un punto cruciale è che Marche Multiservizi non ha aderito a questo avviso, quindi ha dimostrato chiaramente la mancanza di interesse per una collaborazione, mentre ci sono delle società importanti che hanno aderito, che riconoscono un vincolo fondamentale che è stato posto in questo avviso, cioè che Aset debba mantenere la sua indipendenza e debba essere pubblica. Quindi questi sono due vincoli che la Lega e la minoranza, con la partecipazione di alcune parti della maggioranza, ha sempre ribadito. Come pensate di procedere? Tutti questi motivi, in quanto Presidente della Commissione Garanze e Controllo, ho convocato per il 24 gennaio la Commissione Garanze e Controllo, invitando esplicitamente il Dottor Pietro Celani e l'assessore Samuile Mascherin per aggiornarci sulla valutazione di queste società che hanno partecipato all'avviso pubblico e anche darci delle lucidazioni sulla potenzialità di Aset a mantenere il futuro business in questo settore, dei rifiuti dell'acqua e del gas.